Buongiorno, oggi ti presento il BLK360 di Leica GeoSystems, il più piccolo imaging laser scanner al mondo. Qui, nella sua scatola di consegna, troverai il BLK360 nel suo guscio protettivo. Una batteria, un caricabatterie, con l'adattatore da auto. Nel kit di accessori troverai la borsa di trasporto, un secondo caricabatterie, due batterie aggiuntive che ti permetteranno di lavorare per un'intera giornata, ed infine il treppiede. Tutti questi accessori potranno essere contenuti nella borsa di trasporto, con uno spazio dedicato al BLK360, un altro per il suo treppiede, piccole tasche in cui riporre le batterie, i caricabatterie, e i suoi cavi. Sei finalmente pronto per andare a rilevare. Il BLK360 può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni, l'architettura, verifica di layout, creazioni di modelli BIM o per la documentazione di siti industriali. Una volta in campo, il BLK360 può essere fissato al suo treppiede grazie al suo sistema di fissaggio rapido. Ora puoi accendere il BLK360. Grazie al suo cerchio a LED, sei in grado di avere un'indicazione in tempo reale del suo stato operativo. Durante la fase di inizializzazione o avvio, il cerchio lampeggia con colore arancione. Una volta pronto a funzionare, il cerchio a LED si trasforma in una luce verde fissa. Puoi quindi collegare il BLK360 a un tablet iOS o Android, tramite connessione Wi-Fi, ed avviare l'app Cyclone Field 360. In Cyclone Field 360 potrai creare un nuovo progetto di lavoro, associargli una foto per riconoscerlo, ed avviare le scansioni e gestirne i parametri. Per prima cosa stabilirai la densità di scansione. Sono possibili tre scelte, 20 mm, 10 mm e 5 mm a 10 metri di distanza. Relativamente alle fotografie, sarai in grado di decidere se fare o no fotografie, attivare la funzione HDR, usare o no i flash a LED posizionati su BLK. Una volta convalidati i parametri di acquisizione, inizierà la scansione. Ora il BLK è stato impostato per scansionare con una densità da 10 mm a 10 metri, senza scattare foto. Il tempo di acquisizione sarà di 1 minuto e 40 secondi. La piattaforma inerziale controllerà la verticalità. Una volta effettuata la scansione della prima posizione, sarà in grado di passare direttamente alla posizione numero 2 e avviare un'acquisizione con parametri uguali o diversi. Una volta completata l'acquisizione, procederai direttamente all'allineamento in campo che potrà essere effettuato in tempo reale nell'app, che ti permetterà di controllare la qualità della registrazione. Anche se avrai effettuato una sola scansione, potrai controllare di non aver dimenticato parti importanti, grazie alla visualizzazione 3D della nuvola di punti direttamente nel tablet. Documenta e associa foto, video e file alle tue scansioni. Le successive scansioni saranno gestite nello stesso modo delle precedenti. Infine, grazie alla visualizzazione in tempo reale delle nuvole di punti in 3D, sarai in grado di validare tutto il progetto e quindi elaborare i dati in ufficio con Register 360. Una volta in ufficio, sarai in grado di avviare il software Leica Cyclone Register 360 e collegare il tablet. Creerai un progetto di lavoro e inizierai il trasferimento dei dati da Leica Cyclone Field 360 a Leica Cyclone Register 360. Una volta che Leica Cyclone Field 360 sarà connesso a Register 360, sarai in grado di importare i dati. Si possono effettuare modifiche, ottimizzazioni e verifiche della nuvola di punti che è già stata preallineata in campo grazie a Leica Cyclone Field 360 tramite l'utilizzo di un sistema di controllo visivo per sezioni. Potrai controllare il corretto montaggio di tutte le posizioni di scansione grazie all'allineamento visivo, effettuando ingrandimenti sullo spessore di taglio della fetta di scansione, controllando così la sovrapposizione delle diverse posizioni. Esiste la possibilità di selezionare solo due nuvole di punti alla volta ed essere in grado di unirle e ottimizzarle. Sarai in grado di controllare e migliorare il montaggio delle nuvole di punti su piani orizzontali e verticali. Cyclone Register 360 ti permetterà anche di visualizzare l'intera nuvola di punti colorata grazie alle foto. Sarai anche in grado di cambiare visualizzazione in modalità intensità. Possiamo anche posizionarci con il punto di vista di una singola posizione. Visualizzare i dati fotografici con o senza la nuvola di punti. Ecco le foto scattate da BLK360. Dopo aver visualizzato e controllato la nuvola di punti, potrai finalizzare il processo di allineamento, scegliere un'immagine per il report ed infine accettarlo. Nel report troverai diverse informazioni, come la precisione generale degli allineamenti, la relazione completa dell'assemblaggio sulle diverse posizioni, con il dettaglio di ogni collegamento. E infine la copia della documentazione associata durante il rilievo. Dopo aver visto il report, sarà in grado di passare alle opzioni di pubblicazione dei dati. Cyclone Register 360 prevede la possibilità di esportare le nuvole di punti in differenti formati di Leica Geosystems come l'LGS oppure in formati più comuni per l'utilizzo in software CAD. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.